False borse griffate, chincaglieria, qualche souvenir. I venditori ambulanti espongono la loro merce in improvvisati mercatini proprio davanti alla Camera di Commercio in Piazza di Pietra, accanto al Tempio di Adriano. Episodi che segnaliamo al municipio, spiega il presidente Lorenzo Tavaglianti, ma continuano a ripetersi. Ci fu un periodo nel Medioevo in cui il poco distante mercato della Rotonda fu trasferito proprio in Piazza di Pietra, dove casini di pietra e baracche vendevano pesce e pane. Difficile immaginare che gli ambulanti di oggi vogliono far rivivere quella tradizione. E comunque in vendita non ci sono alimenti ortaggi, ma borse false, chincaglieria, che contribuiscono a creare degrado in pieno centro storico. Si chiede l'autorità di stroncare questo nuovo costume, diventato ormai una triste consuetudine.